La campanella dovesse suonare domani mattina, quale sarebbe adesso la situazione? 200.000 precari, 250.000 precari che purtroppo non si riesce neanche a nominarle domani mattina, ma neanche il primo settembre. Si procederà alla nomina il ministro auspica il primo settembre. Noi siamo un po' scettici, quindi si procederà alla nomina a fine settembre, primi d'ottobre, poi per derimere quelli che sono i contenziosi e gli alunni rischiano di cambiare all'inizio dell'anno anche tre docenti sulla stessa disciplina. Noi come sindacato, recentemente all'ultimo congresso, avevamo proposto una cosiddetta ricetta, in questo caso al ministro Valditara. Abbiamo effettuato uno studio, partendo dall'analisi dei livelli stipendiali innanzitutto, e poi un confronto basato su dati del Ministero dell'Istruzione, delle finanze, dell'Inps e anche i contratti di settore. Si dovrebbero prendere tutti i posti disponibili e vacanti, trasformarli dall'organico di fatto all'organico diritto, quindi adeguarli alla reale esigenza della scuola. Il tutto costerebbe, quindi stabilizzando oltre 200 mila persone, per esattezza 250 mila precari, 180 milioni di euro, circa 715 di euro per ogni precario. Quindi puntare alla stabilizzazione, anche quale volano di crescita per l'intera economia del Paese. a una scuola con i personali davvero in servizio dal primo settembre, per garantire soprattutto la continuità agli alunni, perché è veramente quello il vero problema, è davvero quello il vero problema.